Nuove regole anche per la scuola, per il rientro in classe, per i casi di positività. Intanto la quarantena scende da 10 a 5 giorni per i non vaccinati. C'è da optare delle distinzioni per la scuola dell'infanzia, per la primaria, per la secondaria di primo grado e di secondo grado. In sostanza per asilo, elementari e medi e superiori, per queste ultime due le regole sono uguali. Differiscono invece tra infanzia ed elementari ed è ovvio perché alle elementari i bambini possono essere già vaccinati. Ma andando per ordine per ciò che riguarda i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, ovvero l'asilo. Dunque con 4 casi di positività si rimane in classe con obbligo di mascherina, con tampone al quinto giorno di positività del primo bambino e con esito negativo del tampone. Il tampone può essere anche autosomministrato e però ci vuole l'autocertificazione dei genitori. Con 5 casi di positività c'è la sospensione delle attività didattiche, si va quindi tutti in DAD e la sospensione delle attività al quinto caso di positività se si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del primo caso. Si applica così la quarantena precauzionale e si deve avere un test negativo al quinto giorno, al tempo 5 come si dice tecnicamente e il test deve essere somministrato da un laboratorio accreditato o da specializzato. Per la scuola elementare 4 casi di positività si rimane tutti in classe con la mascherina FFP2, sentati i bambini al di sotto dei 6 anni e si rimane per 10 giorni e alla fine si fa un test. Per i bambini invece che hanno 5 casi di positività alla scuola elementare, quindi se si è vaccinati si rimane in classe. I vaccinati sono quelli con il primo ciclo, quelli che hanno superato il covid e hanno anche una sola dose di vaccino ma meno di 120 giorni della somministrazione per coloro i quali hanno fatto il richiamo e per coloro i quali sono esentati. Dunque bisogna rimanere in classe per 10 giorni con la mascherina e bisogna fare un test antigenico rapido o molecolare se si è sintomatici al quinto giorno successivo dalla data dell'ultimo contatto stretto. Il test può essere somministrato, effettuato anche in centri privati o abilitati. In caso di utilizzo di test antigenico all'esito negativo ci vuole la certificazione. Cambiano le cose invece per coloro i quali non sono vaccinati. Si applica la didattica a distanza che durerà 5 giorni, una quarantena precauzionale appunto di 5 giorni la cui cessazione deve essere conseguente al test negativo. Può essere un test rapido, un test molecolare e comunque c'è l'obbligo di indossare per altri 5 giorni i dispositivi di protezione. Per la riammissione in classe dei bambini non vaccinati in regime di quarantena è previsto un test antigenico molecolare effettuato soltanto ed esclusivamente nei centri accreditati. E poi ci sono le regole che riguardano i bambini, gli studenti che vanno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado ovvero alle superiori e alle medie. Se c'è un positivo nella stessa classe la didattica resta in presenza con autosorveglianza con obbligo di mascherina per docenti e alunni per 10 giorni. Se i positivi sono due nella stessa classe per i vaccinati o guariti con una dose di vaccino a meno di 120 giorni o col booster o sono esenti la didattica resta in presenza con autosorveglianza e l'FFP2 per 10 giorni tra docenti e alunni. Per i non vaccinati ci sono 5 giorni di DAD e la riammissione in classe con test antigenico molecolare negativo o al tempo 5 ovvero 5 giorni dal primo caso di positività effettuato presso i centri accreditati.